Oggi alle 18 la città si ritrova nel parcheggio del Palazzo di Giustizia per la manifestazione Le vittime non hanno colpa, voluta dai familiari delle vittime del terremoto nell'ambito del progetto Storie di Giustizia. In questi anni familiari spesso si sono ritrovati a manifestare la loro indignazione a causa delle sentenze. L'ultima in ordine di tempo è quella che ha confermato la sentenza di primo grado del 2022 che aveva scagionato la presidenza del Consiglio dei Ministri per la morte di sette studenti. I giudici hanno stabilito che non solo non ci sarà nessun risarcimento ma i genitori saranno costetti a pagare anche le spese legali. Il ricorso era stato presentato dai parenti di alcuni studenti morti Nicola Bianchi, Ivana Lannutti, Enza Tersini, Michele Strazella, Daniela Bartoletti, Sara Persichini e Tonino Colonna. Secondo i giudici le cause sono da ricercare nelle decisioni assunte dai ragazzi assolvendo da ogni colpa in pratica come in primo grado la Commissione Grandi Rischi che si era riunita all'Aquila il 31 marzo del 2009. Si ricorderà già l'inignazione di ottobre del 2022 dopo la sentenza del giudice Monica Croci che in sostanza aveva riconosciuto ai ragazzi una corresponsabilità perché di fronte alle scosse non erano usciti da casa, sentenza che ha fatto il giro dell'Italia. A giugno del 2023 però il Tribunale Civile dell'Aquila aveva condannato a un risarcimento danni di 780 mila euro oltre agli interessi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell'Interno in favore dei genitori di due studentesse Geni e Giuse Antonini morte in via Campo di Fossa, una sentenza del giudice Baldovinio De Sensi che aveva in pratica ribaldato il verdetto della collega Croci. Il giudice scrisse a chiare note che la responsabilità delle vittime è infondata perché non solo sfornita di prova ma nel corso del giudizio sono emersi elementi di segno contrario, le scosse erano ripetute, l'edificio non aveva subito danni visibili, insomma diversi trattamenti.